In questo video vi mostrerò degli esercizi da poter svolgere con il vostro bambino, in accompagnamento ai quattro giochi di magia. Si tratta di esercizi in cui replicheremo i gesti compiuti dal mago, lavorando sulla percezione dell'arto superiore, sulla attivazione dei processi cognitivi e sul controllo del tono muscolare. Esercizio di riconoscimento di posizioni della spalla sul piano frontale. In questo esercizio per il movimento di elevazione e abbassamento della spalla utilizzeremo questo cartellone dove avremo disegnato quattro tac equidistanti tra loro ed identificate con numeri e disegni. Il bambino ad occhi chiusi dovrà riconoscere la posizione in cui porterò la sua mano in maniera molto lenta e dolce affinché non si inneschino reazioni anomale del tono muscolare. Questo esercizio, come anche altri che vi mostrerò, induce una inibizione del tono muscolare attraverso il coinvolgimento dei processi cognitivi nella risoluzione del compito con la formazione di una ipotesi percettiva. Mario, vieni che facciamo l'esercizio. Mettiti bene qui davanti. Allora, guarda bene il cartellone. Abbiamo quattro posizioni. La 1, la 2, la 3, la 4. Ora chiudi gli occhi che te le faccio sentire. Rilassa il braccio che ti muovo io. Questa è la 1, questa è la 2, questa è la 3 e questa è la 4. Ora porterò la tua mano in una di queste quattro posizioni e tu dovrai dirmi qual è. Andiamo. Questa che posizione è? Bravissimo. La 3? Sì. La 2? Bravo. La 4. Perfetto. Immagine motoria della spalla. In questo esercizio chiediamo al bambino di scegliere una delle quattro posizioni e di immaginare il movimento senza farlo. In questo modo creiamo una anticipazione della percezione del movimento che prepara e facilita il movimento stesso, attivando le aree cerebrali motorie. Accompagnerò poi in maniera lenta la mano del bambino in una delle posizioni e chiederò se quello che aveva immaginato corrisponde a quello percepito. Potrò chiedere inoltre le differenze percepite tra quello che gli faccio sentire io e quello che aveva scelto lui per focalizzare la sua attenzione su questo confronto. Vieni Mario, mettiti davanti al cartellone, bene al centro, guarda bene le quattro posizioni, abbiamo la 1, la 2, la 3, la 4, ora scegli ne una senza dirmelo e a occhi chiusi immagina che io ti porti la mano in quella posizione. Ok? Chiudi gli occhi, immagina il movimento senza farlo. Ok, ora ti muovo io e poi tu mi devi dire se quello che ti faccio sentire io è quello che avevi scelto tu. Ok, era questo quello che avevi scelto? Cos'è che avevi scelto? La nuvola. La nuvola? Era questo qui quindi? Ok, cos'è che è diverso tra questo qui che ti ho fatto sentire io? La spalla. Bravissimo, è la spalla che è diverso. Qui è un po' più su, quindi abbiamo una flessione maggiore. E qui è un po' più giù. E qua non è dritto. Benissimo. Esercizio per la propriocezione dell'articolazione della spalla. In questo esercizio lavoriamo sulla propriocezione di spalla utilizzando il cartellone con le quattro tacche. Porto in maniera lenta la mano del bambino in una delle quattro posizioni con il braccio sinistro e chiedo di riportare mantenendo gli occhi chiusi l'altra mano nello stesso punto dal lato destro. Vieni Mario. Allora mettiti qui in piedi davanti al cartellone. Chiudi gli occhi. Rilassa il braccio sinistro. Ti muovo io. Metti il braccio destro uguale a destra nella stessa posizione. Bravissimo. Ancora. Ok. Ok. Aspetta che mi fermo. Metti l'altro braccio uguale. Ok. Siamo un pochino più su Mario così sono uguali. Memorizza bene la sensazione. Ok. Perfetto. Apri gli occhi. Esercizio per la propriocezione dell'articolazione di spalla attraverso l'uso del cartellone battaglia navale. Come nell'esercizio precedente anche qui lavoriamo sulla propriocezione dell'articolazione della spalla, questa volta però utilizzando un cartellone diverso, simile al gioco della battaglia navale. Quadrettato con righe e colonne. In questo modo avremo, oltre a un maggior numero di posizioni e con dei riferimenti spaziali più precisi, combineremo i movimenti di elevazione e abbassamento di spalla a quello di adduzione e abduzione, lavorando anche sulla percezione della distanza della mano dalla linea mediana, ovvero la linea immaginaria che separa il nostro corpo in due metà. Vieni Mario, vieni in piedi qui davanti al cartellone, al centro. Allora, chiudi gli occhi, rilassa il braccio sinistro. Ok. Porta l'altro braccio nello stesso punto. Ok. Siamo un pochino più al centro, così le due mani sono uguali. Perfetto. Ora concentrati, senti bene il braccio sinistro e porta l'altro uguale. Benissimo. Ok. Porta l'altro braccio uguale, Mario. Siamo qui, un po' più verso il centro. Ok. Adesso. Perfetto. Bravo. Ok. Aspetta che io mi fermo di muovere. Porta l'altro braccio uguale. Benissimo. L'ultimo. Ok. Un pochino più in alto, Mario, col braccio destro, così sono uguali. Guarda, apri gli occhi. Sei stato bravissimo. Esercizio per la combinazione dei movimenti della spalla di elevazione e abbassamento e di adduzione e abduzione tramite l'uso di un cartellone con traiettorie. In questo esercizio utilizzeremo un cartellone di questo tipo, dove abbiamo disegnato quattro traiettorie di diversa forma e colore. Abbiamo una linea verticale, una linea ondulata con onde più larghe, una con onde più strette ed una linea zigzag. Per prima cosa faremo percorrere le quattro linee con l'arto debole del bambino per permettergli di memorizzarle. Gli ne farò poi sentire una e lui dovrà riconoscerla. O rispondendo a voce alta oppure ad occhi aperti venendo a indicare con l'altra mano la traiettoria percepita. Vieni, Mario. Mettiti qui in piedi. Allora, vedi questo cartellone? Abbiamo quattro linee. La linea verticale nera, che è tutta dritta. Poi abbiamo la linea verde, che fa così zigzag. Poi abbiamo la linea rossa, che sono delle onde larghe larghe. E la linea gialla, che invece ha delle linee un pochino più strette. Chiudi gli occhi e te le faccio sentire. Questa è la linea nera, la linea dritta. Ok, Mario? Ora ti faccio sentire la linea verde zigzag. rilassa il braccio, Mario, che te lo muovo io, così senti bene. Questa è la linea rossa, che fa le onde larghe. rilassa il braccio, Mario. Ok. Adesso ti faccio sentire l'ultima. Mario, ti sei un po' irrigidito? Fermo con l'altro braccio, rilassa, eh. Ok, benissimo. Questa è la linea gialla. Con le onde strette. Lo senti come è diversa? Questa qui, eh. Ok. Adesso te ne faccio sentire una, e tu devi riconoscere qual è. rilassa bene il braccio. Ok. La nera. Bravissimo. Grazie. Grazie. Questa qual è, Mario? La vecchia. Ma sei bravissimo. Ora è un po' più difficile, eh. Senti bene. Questa qual era, Mario? La gialla. Perfetto. Questa qual era, Mario? E la roccia. Benissimo. L'esercizio può essere svolto sia ponendo il cartellone in verticale che orizzontale, e in questo modo lavoriamo anche sulla percezione delle differenze tra le varie traiettorie, sia in termini di spazialità che di temporalità, ovvero del tempo impiegato a percorrerle. Esercizio per la presa di coscienza della linea mediana, per la somatotopognosia, ovvero la capacità di percepire un segmento corporeo nello spazio in relazione al movimento, in questo caso della mano e delle dita, e per la presa. In questo esercizio facciamo prendere al bambino con la mano debole l'anellino recante con sé il fazzoletto utilizzato nel gioco di magia. Chiedo al bambino di chiudere gli occhi e porto la mano in un punto dello spazio, chiedendo di venire a prendere l'anellino con l'altra mano, congiungendo così le due mani. Chiedo poi di abbassare l'arto sano e lo ripeto, insistendo su vari punti a diverse altezze in corrispondenza della linea mediana, per meglio imitare il gesto compiuto dal mago nel gioco di magia. Ora Mario, prendiamo l'anellino con la mano sinistra, prendilo bene col pollice e l'indice, ora chiudi gli occhi, vieni a prendere l'anellino con l'altra mano, tieni gli occhi chiusi, abbassa il braccio destro, abbassa la mano, Mario mettila qui sopra la coscia, ok? Ancora, vieni a prendere l'anellino, ok? Abbassa il braccio destro, ancora una volta, perfetto. Esercizio per la cinesesia, ovvero la capacità di percepire il movimento della spalla. In questo esercizio facciamo sentire al bambino tre diversi tipi di movimento fatti con l'articolazione della spalla, in questo caso sinistra. Quindi facciamo sentire un movimento di elevazione e abbassamento, uno di adduzione e abduzione e un movimento circolare. Poi ad occhi chiusi gliene faccio sentire uno e lui dovrà riconoscerlo. Allora Mario, chiudi gli occhi, ti muovo io il braccino sinistro, ti faccio sentire tre movimenti diversi, stai attento, questo movimento su e giù, senti la mano che va su e giù, così è da destra verso sinistra, quindi si apre e si chiude e poi ti faccio sentire un cerchio. Ora te ne faccio sentire uno e tu lo devi riconoscere. Ok. Vado. Su e giù. Bravissimo. Cerchio. Ok, rilassa il braccio Mario, te lo muovo io. Su e giù. Attento eh, il su e giù. All'acca, 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 all'acca. Da lato a lato, esatto, questo è su e giù, questo invece... All'acca, all'acca. Da un lato all'altro, benissimo.